buongiorno buongiorno a tutti abbiamo inserito anche taranto in questo tour che ci parla delle delle dogane dei porti lascio la parola tiziana che nello specifico ci dirà di che si tratta grazie a rose grazie a voi per essere per essere qui la commissione principale in cui sto lavorando la cia è la commissione commercio internazionale abbiamo evidenziato come i porti oggi abbiano tantissime difficoltà in italia sto parlando del fatto che chiaramente la politica commerciale è una prerogativa esclusiva dell'unione europea e c'è un'unione doganale e analizzando le statistiche si vede che ci sono porti che vengono preferiti rispetto ad altri noi stiamo cercando di portare questa cosa l'attenzione lo facciamo con una risoluzione ma soprattutto lo facciamo con una visita diretta e con interlocuzione diretta con chi il lavoro lo fa perché i porti sono una risorsa molto importante nell'economia del nostro paese